Cosa penso di questa fiera? Direi sicuramente è un'iniziativa nuova, mutuata dai grandi convegni internazionali dove ci sono più platee, più in parallelo, in questo caso questi speech, questi academy e ognuno può partecipare a quello che gli sembra di maggiore interesse per la propria attività. Sicuramente è abbastanza una novità però per il nostro settore un evento organizzato in questo modo. Sono convinto che al di là della partecipazione più o meno numerosa farà storia e Comoli diventerà di nuovo un apriprista e gli altri saranno dei follower. Grazie